Partiamo un po' parlando di questo evento speciale, abbiamo appena assistito comunque a una partita bellissima, tra un po' tocca a voi. Sì, poi sono alla fine le cose che ti riempiono il cuore di gioia, perché vedere giocare questi bambini ti fa capire che lo sport ma il calcio è qualcosa di magico. Ciro Ferrara ha detto che punta tutto su tuo fratello, come mai? Ti ha visto fuori forma? No, no, perché io non gioco, quindi allora è stato ancora una volta intelligente, ha puntato sulla vedina giusta, io mi metto fuori, faccio l'allenatore e gli do un po' di direttive. Cioè sei il mister a bordo campo? Infatti. Come mai? Hai avuto uno stiramento nell'ultimo minuto? No, 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 è perché ho un problema al ginocchio, quindi ogni volta che inizio a giocare a calcio dopo mi si gonfia. Uno sport che ho fatto per tanti anni, che amo e che adesso porto qualche acciacco, quindi preferisco stare fuori e guardarli. Mandi avanti gli altri. Sì, sì, sì. Grazie mille, a dopo. Grazie. Grazie.